Buona domenica alla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignol. Coda a tratti per traffico intenso in A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello in direzione Bologna. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze per lavori di risanamento del cavalcavia fino al 21 giugno chiusura notturna in direzione Siena tra San Casciano Nord e San Casciano Sud dalle 21 alle 6. Il traffico sarà deviato sulla strada regionale 2 Cassia. Cantieri a Firenze al via la riqualificazione della pavimentazione di piazza del Tiratoio lavori alla rete idrica in via di Peretola e in via di Ugnano. Fino alle 2 di domani sciopero del personale di Trenitalia, Trenitalia Tiper, Trenord e Italo. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Si tratta di uno sciopero in giorno festivo e per questo motivo non sono previste fasce di garanzia. Muoversi in Toscano è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!